Occhio a Stankovic, cross profondo, palla buona verso Cambiasso, Cambiasso ha il tempo per controllare, sinistro di Cambiasso, la risposta fai! Arnan Cresco 1-0 Inter, subito Inter, subito Cresco! Balotelli prova l'uno contro uno contro Mantovani, ancora Balotelli, cross morbido, non bene Sorrentino ancora una volta, figo! E poi la deviazione, si salva il Chievo! Marcolini, ancora Mantovani, c'è Ventivoglio poco lontano, dentro c'è l'incrocio tra Bogdani e Pellissier, eccolo Bogdani sulla pressione di Montari, nel traffico, Bogdani numero, Bogdani! Qua trova un piazzato troppo debole per lui! Il tocco verso Ventivoglio, la giocata verticale imprecisa, Maxwell un po' lezioso qui nel mettere via, e allora Marcolini prova! 1-1! Il pareggio del Chievo! Si attende l'omento della battuta, Ventivoglio lascia a Marcolini il compito con il sinistro, la deviazione larga di un soffio! Palla verso Cambiasso, c'è Crespo che si propone, il tocco è per lui, Crespo! Splevino per Cambiasso, Cambiasso l'apertura, a destra Balotelli, ancora Balotelli, fra i due volte, non è finito Figo! Grande opportunità per Vigo! Stankovic verticale, lo scambio con Montari, palla dentro verso Cruz, poi Balotelli, si coordina! 2-1 Inter! Un gol pazzesco! Un gol pazzesco! Un gol pazzesco! Super Mario Balotelli! Bicross da parte di Mantovani, verso Luziano! 2-2! 2-2! Luziano! Palla verso Samuel, a via Sanetti! Sua percussione, Sanetti! I muscoli del capitano, fino alla fine! Intervento di Cruz, poi palla per la via Sanetti, mancano 3 secondi, l'arbitro dice che basta così! Finisce 2-2, è un boato quello dei tifosi nel Chievo!